Siamo a Gian Piero Laurenzano, Potere al Popolo, Capolista Camera per Napoliono. Ok, a me è più semplice di tutti quanti gli altri far spiegare cosa siamo, perché già nel nome c'è il programma. Potere al Popolo. Potere al Popolo perché? Perché anche se è sancito in Costituzione, poi di fatto non è. Lo sapete tutti quanti, le decisioni vengono ormai prese altrove. Le prendono i salotti buoni, i potenti, a Bruxelles, a Roma. Gli unici che non decidono del loro destino sono le persone. Le persone normali, quelli che lavorano, quelli che fanno fatica ad andare avanti. Ed ecco, il nostro programma è semplicemente questo. Restituire potere alle persone, potere di decidere sulle proprie vite. Noi siamo probabilmente il movimento più giovane che vedrete stasera. Siamo nati, tra l'altro, proprio partiamo da Napoli e siamo nati tre mesi fa. Siamo partiti da me, è molto semplice. Eravamo i compagni dell'ex OPG, il collettivo che porta avanti la cosa, e ci siamo guardati e abbiamo cominciato a parlare di elezioni. Nel parlare di elezioni ci siamo resi conto che veramente lo scenario era allucinante. Una campagna elettorale come forse non l'abbiamo mai vista, fatta di due cose. Odio, tutti declinano, tutti puntano sull'odio. E l'altro invece, le promesse, le false promesse. Quindi in questa cosa qui, in questo scenario veramente brutto, abbiamo pensato, ma cosa possiamo fare? E ma, come ci avevamo detto più volte, le persone con cui normalmente interloquiamo sul territorio, quelle con cui facciamo le attività sociali, le lotte, quelle con cui facciamo le attività di solidarietà, ci hanno detto, ma perché non proviamo noi, tutti quanti insieme, a fare una proposta e a farci soggetto politico? A provare ad andare noi direttamente, a rappresentare i nostri interessi, senza che lo faccia qualcun altro. Così facciamo un appello, un appello video, e niente, in quattro giorni facciamo un'assemblea di 800 persone a Roma. Partono 150 assemblee, 150 assemblee in 150 città d'Italia. Perché la verità è che l'Italia è molto diversa da come la raccontano, da come la sentite normalmente. L'Italia non è fatta di persone che odiano, di persone, non so, cannibali. Questa è una visione veramente pessima che si dà. È piena di gente che si sbatte, che si fa di tutto per aiutare l'altro, per far aiutare quello che è più sfortunato. È un'Italia di gente dei centri sociali, ma come quelle delle parrocchie. Noi questo popolo qua siamo. Siamo questo popolo qua. E non cediamo a quest'idea di prenderci a quello che sta peggio, perché questo è il gioco più vecchio del mondo. I potenti l'hanno sempre fatto. Ci hanno sempre messo gli uni contro gli altri, perché non vogliamo che guardiamo in alto, ci vogliamo portare a guardare in basso. Noi invece vogliamo portare le cose veramente dove si decidono e contrastarle. Questo è semplicemente potere al popolo. Qua dentro vi racconteranno un sacco di storie. vi diranno noi votateci, noi faremo, noi diremo. E già sanno tutti quanti che qua la maggioranza non ce l'avrà nessuno. Perciò sono tutte promesse al vento. Non credete a nessuno delle cose che vi stanno dicendo. Li vedete? Sono tutti vestiti bene. E io ve lo dico io. Io sono un bancario. E i politici sono i miei bancari. Più si vestono bene, più vi vogliono futtere. Noi gli credete. Noi gli credete. Noi faremo semplicemente. Noi non ci inventiamo, non vi diciamo faremo questo. Noi faremo quello che ci viene detto di fare e continuiamo a fare le attività di solidarietà, di mutualismo e di controllo popolare. Siamo quelli che c'erano ieri, sono quelli che ci sono oggi, sono quelli che ci saremo domani. E siamo insieme a voi. Grazie, grazie anche a Giampiero Laurensano. Anche lui nei tre minuti perfettamente. Il momento di Giampiero Laurensano, potere al popolo. Sì, allora, molto semplicemente. Buono che ci ha chiesto proprio rispetto a Napoli. Un ottimo suggerimento. Allora io vi dico una cosa molto semplice. Non credete alle cose che vi dico io. Che quella potrei dirvi un sacco di palle, anche io, come fanno gli altri. Io faccio un invito invece ai cittadini napoletani. Fate uno sforzo, fate due passi. Parcate la soglia dei posti liberati di questa città, dell'ex OPG, di Villa Medusa, di 081. Li potete andare a vedere con i vostri occhi. Non fidatevi quello che vi dico io. Entrate lì dentro, partecipate a quelle comunità. Vedete che cosa significa l'ambulatorio popolare. Vedete che cosa significa la scuola di italiano. Vedete che cosa sono i doposcuola. Partecipate attivamente. Andate a fare l'assistenza senza fissa dimora la sera insieme a noi. Fate queste cose qua e capirete effettivamente quale è lo spirito. Veniteci a trovare, in particolare, alla chiesa di Santo Alfonso, nel quartiere di Montesanto. Una chiesa che era chiusa da un sacco di tempo, che i redentoristi avevamo chiuso per fare una speculazione edilizia. Una chiesa che è stata raperta e a cui ha dato ospitalità senza fissa dimora. A quelli che normalmente vengono dimenticati, che ci ricordiamo soltanto quando c'è l'emergenza freddo e muoiono per strada, come se il freddo fosse un'emergenza e non fosse la normalità. Venite a provare questo spirito qua. E sulla base di questo, convincetevi se vale o meno, non dico votare e votare al popolo, partecipare al potere al popolo. Stare con noi in prima fila nelle battaglie. Che non è che siamo quelli che vi vogliono rappresentare. Vi invitiamo a partecipare direttamente. Nessuno vi può rappresentare meglio di voi stessi. E poi ci tengo a sottolineare un punto del programma. Noi diciamo una cosa molto chiara, che non dice nessuno. Noi siamo per la redistribuzione della ricchezza. Chiunque andrà al governo, salirà e vi dirà mi dispiace, non si può fare niente, non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi e vi dirà no, la colpa è dell'immigrato. Perché a quel punto chiaramente si sa come l'essere umano. Se non ci sono soldi, ebbè io ho dato prima da mangiare a figlio mio. Ma vi stavo dicendo una grande stupidaggia perché i soldi ci stanno. L'Italia ha la ricchezza privata più grossa d'Europa. Voi non lo sapete, ma ognuno di voi ha 160 mila euro. Soltanto i soldi registrati e non parliamo di quello che ci sta nelle cassette di sicurezza, di quello che è il contante. Sono 160 mila euro. Non ce li avete? Ebbè c'è un motivo, perché ce l'ha qualcun altro. Perché come diceva Trilussa, la media è un po' la testa, ma se io non ce l'ho significa che qualcuno ce ne ha due. Qua ce ne hanno dieci di polli. Ce ne hanno dieci. Allora il nostro primo compito è andare a prendere i soldi. A questi qua si sono arricchiti tramite l'evasione, tramite la corruzione, speculando, tramite gli sprechi nella pubblica amministrazione. Riprendere quei soldi e rimetterli in tasca, perché il lavoro non lo creano le aziende, come vi raccontano tutti quanti. Il lavoro si crea soltanto se c'è domanda, se la gente tiene i soldi in tasca per spenderli. Allora noi questo vogliamo fare. Vogliamo rimettere i soldi in tasca a chi quella ricchezza l'ha prodotta e che gli è stata sottratta e non ne ha mai potuto godere. E vi faccio vedere come si vive in un'altra maniera, come si riparte. Grazie, grazie a Giampiero Laurenzano del Potere al Popolo. Veramente grazie per la vostra capacità di sintesi. Grazie a tutti.